pochi mesi prima di morire mozart confidò a sua moglie constance il sospetto d'essere stata avvelenato con l'acqua tofana l'acqua tofana a cui fa riferimento mozart fu un potente veleno utilizzato due secoli prima epoca in cui molte donne in età giovanissima venivano costrette al matrimonio subendo abusi e maltrattamenti dagli stessi mariti ma per comprendere meglio la situazione dobbiamo fare un salto indietro di due secoli la storia dell'acqua tofana a inizio in italia con l'esecuzione di tre persone nel 1633 il 17 febbraio 1633 francesca la sarda viene decapitata probabilmente fu la prima persona a fare commercio del potente veleno le leggende raccontano che francesca la sarda prima di morire abbia lanciato una maledizione sugli spettatori presenti durante la sua esecuzione per l'occasione infatti le autorità avevano allestito dei palchi per permettere all'enorme folla di assistere all'esecuzione della donna non appena la donna esalò su ultimo respiro i palchi cedettero sotto il peso della gente provocando un gran numero di morti e di feriti il 21 giugno 1633 placido di marco viene soffocato su una barca e poi squartato il 12 luglio 1633 tofania d'adamo viene giustiziata con l'accusa di aver avvelenato il proprio marito proprio con l'acqua tofana che secondo ciò che si racconta fu creata da lei stessa se non ci fossero stati eredi probabilmente il nostro video si sarebbe concluso qui invece la storia dell'acqua tofana continua grazie a giulia tofana figlia di tofano d'adamo ed erede della formula segreta per il veleno perfetto giulia tofana orfana e analfabeta si guadagnava da vivere vendendo il proprio corpo a uomini di ogni estrazione sociale e culturale malgrado la mancanza di istruzione era tanto sveglia quanto bella e furono proprio questi suoi pregi e i suoi incontri carnali con esponenti del clero a farle stringere rapporti con un frate speziale grazie al quale riusciva a procurarsi gli ingredienti e le polveri necessarie per effettuare esperimenti grazie a questi esperimenti e al talento trasmesso le dalla madre giulia riuscì a creare un potente veleno la miscela conteneva acqua anidride arseniosa limatura di piombo limatura di arsenico e il succo estratto dalle bacche della bella donna portando ad ebollizione l'anidride arseniosa si otteneva lo scioglimento del piombo e dell'antimonio che al termine del procedimento davano luogo ad una soluzione in colore in odore e in sapore ma ad altissimo tasso di tossicità in pratica giulia aveva scoperto la formula del veleno perfetto capace di uccidere lentamente l'ignora vittima senza destare sospetti e lasciando roseo il colorito del morto c'era però un elemento importante di cui tener conto ovvero che la somministrazione del veleno alla vittima doveva avvenire poco alla volta attraverso un numero preciso di gocce versate nel vino o nelle pietanze lo scopo di giulia tofana era ovviamente quello di arricchirsi vendendo il veleno a quelle giovani mogli vittime di maltrattamenti ed abusi da parte dei mariti il veleno ebbe un successo incredibile ma la popolarità e l'arricchimento della donna andavano di pari passo con il rischio di essere scoperta da parte dell'inquisizione la fama del veleno crebbe a tal punto da arrivare in città come napoli e roma intorno alla metà del seicento però giulia fu denunciata dal marito di una delle sue clienti l'uomo infatti era sopravvissuta al veleno in quanto sua moglie non aveva seguita la lettera le indicazioni sul veleno giulia però riuscì a fuggire da palermo rifugiandosi a roma grazie all'aiuto di un frate un certo girolamo ogni codemo a roma i due presero un bell'appartamento nel quartiere trastevere ovviamente a spese del frate che nel frattempo era diventato l'amante fisso di giulia qui mentre frate girolamo passava le proprie giornate in preghiera presso il convento di san lorenzo giulia imparava finalmente a scrivere per un breve periodo tutto sembrava andare per il verso giusto finché un giorno una cara amica di giulia non si confidò riguarda i maltrattamenti subiti in casa dal marito ovviamente giulia non poteva lasciare la sua amica nelle mani di quel mostro del marito e decise quindi di rispolverare le sue vecchie doti di avvelenatrice ovviamente grazie all'aiuto del suo amante girolamo il quale riuscì a procurarsi gli ingredienti necessari a ricreare la famosa acqua tofana proprio sotto il naso dell'inquisizione giulia ricominciò con il commercio del suo potente veleno il traffico continuò con successo per qualche anno finché una delle clienti tale contessa ceri ansiosa di liberarsi del marito il prima possibile vuoto all'intera boccetta di veleno nella minestra del consorte provocandone la morte immediata e dando inizio a una serie di indagini da parte della polizia le indagini portarono ovviamente a giulia tofana la quale fu prima arrestata e poi torturata durante gli interrogatori la donna mise di aver venduto veleno sufficiente ad uccidere 600 persone prevalentemente uomini in un periodo compreso tra il 1633 e il 1651 giulia tofana fu giustiziata a roma precisamente a campo dei fiori nel 1659 insieme a lei furono mandata a morire anche la sorella girolamo sua stretta collaboratrice i suoi apprendisti e molte delle mogli accusate di aver ucciso i propri mariti col tempo altre 41 donne furono strangolate nelle segrete dei palazzi o murate per ordine dell'inquisizione come abbiamo però accennato all'inizio del video la produzione del potente veleno chiamato appunto acqua tofana e conosciuta anche con il nome di manna di san nicola acqua tufanica acqua tufanina o acqua di napoli continuò anche dopo la morte della sua creatrice tra i morti a causa dell'avvelenamento con l'acqua tofana si sospettano non solo mozart ma anche papa benedetto tredicesimo